e riprendiamo quindi il capitolo su insieme dizionari diciamo con un appendice una chiosa all'esercizio di ieri vi ricordate l'esercizio di ieri era sul spell checking quindi sul controllo di parole non esistenti all'interno di un testo nelle slide viene proposto subito dopo un altro esercizio che se lo leggiamo diventa un caso avendo appena fatto quello precedente questo diventa un caso particolare dell'altro qui mi chiede di contare il numero di parole uniche in un documento di testo cioè parole uniche cioè distinte tra di loro se noi abbiamo un testo una canzone un testo di un libro eccetera e vogliamo sapere sì ma quante parole diverse qual è l'ampiezza del vocabolario diciamo che è stato usato dall'autore di quel testo e quindi noi vogliamo scrivere un programma che legga un file di testo e mi dica quante parole diverse sono presenti nel documento qui le chiama parole uniche parole distinte tra di loro non mi chiede quante volte compare ciascuna parola mi chiede solamente quante parole diverse sono presenti in realtà questo noi l'abbiamo già fatto nel senso che poi se guardate lo slide chiaramente fa il ragionamento per dire che alla fine un insieme una struttura dati utile proprio perché noi vogliamo contare solamente la prima occorrenza di ogni parola quindi la prima volta che la vedo la devo contare le volte successive invece non devo contare quindi dovrò avere una struttura dati che mi permetta di inserire le parole solamente la prima volta che le vedo e le volte successive invece le posso tranquillamente ignorare e questo noi è esattamente ciò che abbiamo fatto per con uno scopo più complicato nell'esercizio di ieri dove guarda caso lo avevamo chiamato già parole uniche senza saperlo e questo insieme storia contiene già esattamente il set delle parole uniche presenti all'interno del file parole ovviamente definite col criterio di pulizia di definizione delle parole che diciamo così ci siamo abbiamo deciso ieri ci siamo inventati secondo la parola la funzione pulisci no che sistemava eliminava alcuni tipi di punteggiatura non altre ma questo è il ragionamento che abbiamo fatto ieri quindi secondo questo criterio di che cos'è una parola che per noi era una sequenza consecutiva di lettere con eventualmente un apostrofe in mezzo allora questa il set parole uniche mi dava l'insieme di tutte le parole quindi per risolvere l'esercizio così successivo che c'è sulle slide ce l'abbiamo già gratis nel senso che basterà dire che il numero di parole la storia ha un totale di quante tot parole distinte a loro quante sono? ovviamente sarà la dimensione dell'insieme storia storia set di tutte le parole della storia la dimensione di questo insieme la len ovviamente dimensione la definisco la estraggo con la funzione len mi darà esattamente quante parole diverse ha la storia quindi semplicemente con questa aggiunta noi ci risolviamo anche la seconda parte dell'esercizio e mi dice che la storia ha un totale di 2637 parole distinte tra di loro quante parole aveva in tutto non lo sappiamo più se ci interessasse anche sapere quante parole c'erano in tutto all'inizio nella storia e quindi contando anche no più volte le parole ripetute non lo sappiamo più perché una volta che abbiamo messo insieme diciamo poi abbiamo automaticamente eliminato i duplicati se ci interessasse saperlo dovremmo andare qui alla rega 31 a incrementare un contatore cioè gestire un contatore che incrementi quante volte provo a inserire una parola parola che è già stata diciamo così strippata sta stata ripulita se abbiamo le psichiatri non sia una parola vuota ok cerco di aggiungerla io so che l'ad può aggiungere oppure meno ma in ogni caso quando provo a fare l'ad vuol dire che ho trovato una parola che potenzialmente sarebbe da aggiungere quindi se mi interessasse dovrei in questo punto qua del codice incrementare una variabile intera che mi tenga conto di quante parole ho inserito se mi interessasse anche l'elenco delle parole in ordine ovviamente potrei costruire anche qua una lista insieme in parallelo all'insieme posso anche costruire una lista che mi tenga traccia di tutte le parole che ho incontrato e in questo caso ovviamente ci saranno dei duplicati possibile se anziché insieme punto add facesse un lista punto append e a questo punto la lunghezza della lista mi darebbe tutte le parole la lunghezza dell'insieme mi darebbe le parole uniche quindi l'importante in funzione del lavoro che ci serve fare useremo la struttura dati più opportuna o un mix una combinazione delle strutture dati più opportune ok questo era solo un appendice all'esercizio di ieri visto che era meglio non farlo negli ultimi 30 secondi mentre invece il tema principale di oggi è quello dei dizionari a cui gli insiemi erano un pochino un preludio un'introduzione che effettivamente l'ultima struttura dati l'ultimo macro argomento che vedremo nel corso è abbastanza potente come struttura dati e in qualche modo mette insieme un pochino le capacità le caratteristiche degli insiemi e delle liste e la troveremo parecchio utile allora vediamo di base come funziona poi cercheremo di di vederne due modalità applicative in qualche modo se posso anticipare la struttura dati dizionario noi la useremo viene usata in due contesti diversi cioè la stessa struttura dati però per come funziona si può usare in modi diversi uno è semplicemente come contenitore di informazioni cosiddetto mappa in cui dobbiamo gestire una delle mappe tra un dato e un altro dato data che ne so un elenco di nazioni diciamo qual è la loro popolazione quindi una mappa che mappa il nome di una nazione con la popolazione diciamo così dei residenti in questa nazione dato il che ne so il codice di un corso mi dà l'elenco degli iscritti quindi qualche cosa che mette in corrispondenza un insieme di elementi di partenza con certe informazioni associate a ciascun di questi elementi questo è l'uso diciamo così generale di un insieme e lo impareremo inizialmente così dopodiché come caso particolare lo useremo per rappresentare dei record ossia dei dati strutturati e si usa molto spesso chi arriva ad altri linguaggi avrà sentito parlare di strutture ad esempio le strutture in c e in parte qualche in parte gli oggetti java possono essere usati in questo modo ossia un contenitore di campi che sono sempre gli stessi i campi sono sempre gli stessi ma i valori possono essere diversi cioè ad esempio qualcosa del tipo ok ogni persona è composta da un cognome un nome che ne so una data di nascita questi tre se io devo gestire un elenco di molte persone ciascuna di queste avrà questi tre campi allora finora non abbiamo saputo fare in modo diciamo così ordinato strutturato ricordate l'esempio dell'ultimo laboratorio in cui c'erano se non sbaglio i clienti di un ristorante e il prezzo la quantità diciamo di denaro che ciascuno aveva comprato in quel ristorante allora molti di voi hanno usato due liste una con l'elenco dei clienti l'altra con l'elenco dei prezzi e queste liste in qualche modo combaciavano nella nostra mente nel senso che il cliente la posizione cliente di zero aveva speso l'ammontare nella posizione prezzi di zero il cliente di uno era aveva speso prezzi di uno e così via però questa corrispondenza era solamente nella nostra mente per loro erano due liste per linguaggio erano due liste completamente distinte allora con usando i dizionari come contenitor di record riusciamo a mettere riusciremo a mettere insieme in un unico dato il nome del cliente e la montata che ha speso e quindi poter a questo punto incasellare in una lista questi contenitori questi record con i dati associati evitando il rischio che se io metto in ordine alfabetico il nome dei clienti i prezzi rimangono completamente sballati perché rimescolo i clienti ma i prezzi rimangono come erano e la corrispondenza qual è? l'ho persa questo è un po il punto d'arrivo allora arriviamoci per gradi come dicevamo come accennato la funzionalità di base di un dizionario è quello di mettere in relazione prima l'ho chiamato mappa di mettere in relazione un insieme di valori di partenza con un insieme di valori di arrivo questi valori di partenza vengono chiamati chiavi e i valori di arrivo genericamente vengono chiamati semplicemente valori quindi è una mappa chiave valore o un insieme di chiavi a questo punto non li chiamerò più valore chiave ma per brevità li chiamo semplicemente chiavi o un insieme di chiavi a ciascuno delle quali distinte tra di loro o un insieme di chiavi distinte tra di loro diverse tra di loro a ciascuno delle quali viene associato un valore ok 1 solo 1 esattamente 1 quindi alla chiave romeo viene associato il valore verde alla chiave edam viene associato il valore lilla alla chiave iv viene associato il valore blu alla chiave juliet viene associato il valore blu si perché ho detto che le chiavi sono univoche e ad ogni chiave viene associato un valore ciò non è vero dal punto di vista dei valori nel senso che i valori possono essere più di uno e un valore può essere destinatario diciamo dell'associazione proveniente da chiavi diverse come ad esempio il caso del blu ok le chiavi sono uniche e i valori possono essere ripetuti e possono essere associati a diverse chiavi il nome diciamo così che ha trovato python per questo tipo di strutture date è un dizionario altri linguaggi lo chiamano array associativo perché perché un pochino adesso lo vedremo anche da sentarsi un po come un array un po come una una lista no in cui dato un indice mi trovo un valore semplicemente l'indice non è un numero ma in questo caso una chiave quindi può essere una stringa può essere un altro tipo di informazione e queste chiavi di fatto si comportano come un insieme l'insieme delle chiavi le chiavi lo vediamo adesso non so non possiamo considerare ordinate ma anche se sono appunto come un insieme non ordinate lo vediamo per gradi allora questo tipo di insieme che abbiamo disegnato nella base del precedente lo possiamo rappresentare in python con una sintassi che accennavo già ieri è un'estensione della sintassi che avevamo già visto per per i set per l'insieme quindi usiamo anche quale parentesi graffe graffa aperta graffa chiusa per creare delimitare un nuovo dizionario e questo dizionario è un elenco di elementi della forma chiave due punti valore quindi chi due punti value in questo caso ho usato come chiavi delle stringhe e usato come i valori delle stringhe ancora quindi ho associato per questo si chiama re associativo ad ogni nome di personaggio ho associato il suo colore preferito ho mappato ogni personaggio sul suo colore preferito attenzione che questa mappa la dobbiamo sempre intendere mentalmente come una cosa unidirezionale da sinistra verso destra dalla chiave verso il valore normalmente non è invertibile la mappa perché io potrei avere dei valori appunto come il blu a cui corrispondono più chiavi e quindi non c'è un'associazione diretta non c'è un'associazione semplice ok poi vedremo che in realtà le chiavi valori vengono trattati in modo diverso cosa posso usare come chiave e cosa posso usare come valore allora le chiavi di un dizionario sono gli stessi valori che potrebbero che abbiamo visto prima ieri possono essere utilizzati all'interno degli insieme quindi ho ripreso la slide di ieri esattamente gli stessi elementi che possono essere messi in insieme cioè quelli immutabili e per i quali si possa definire il fatto se sono uguali oppure no quindi sono confrontabili possono essere usati come chiave quindi in pratica normalmente quando noi creiamo un dizionario le chiavi saranno quasi sempre stringhe o numeri quindi la chiave è il numero di matricola la chiave è il codice di avviamento postale di un comune la chiave è il vostro codice fiscale la chiave potrebbe essere il vostro cognome ma non tanto perché non è univoco no quindi tecnicamente un cognome può essere usato come chiave però poi perché è una stringa però poi cosa capita se io avessi più persone con lo stesso cognome verrebbero a utilizzare la stessa chiave quindi verrebbero confusi uno con l'altro per la chiave può essere solamente unica quindi si cerca sempre di usare dei come chiavi si deve usare un valore che sia univoco che identifichi univocamente l'oggetto di cui stiamo parlando quindi nome e cognome non vanno spesso bene come chiave perché naturalmente possono esistere duplicati e allora in questo caso verrebbero mappati sullo stesso elemento cosa che ovviamente non vogliamo però anche se appunto tecnicamente come chiave è possibile usare un campo anche un oggetto anche un pochino più complesso come potrebbe essere una tupla molto spesso ci si limita a string o a numeri che siano numeri identificativi univoci di una determinata informazione mentre invece per quanto riguarda i valori posso mettere ciò che voglio la criticità è sul lato della chiave perché deve essere un insieme deve essere univoco deve essere veloce da trovare eccetera eccetera così valgono gli stessi ragionamenti che abbiamo fatto sugli insiemi una volta che ho trovato l'elemento dell'insieme il valore adesso associato è un valore qualsiasi quindi è un qualunque oggetto python quindi potrà essere una stringa potrà essere una lista potrà essere a sua volta un altro insieme un altro dizionario quello che volete non c'è nessun limite a che cosa posso mettere dal lato destro del mapping proprio per questo vi chiedevo mentalmente di veramente pensare come una cosa unidirezionale dalla chiave verso il valore non si torna indietro perché i valori sono informazioni più normalmente più complesse e più articolate quindi tecnicamente c'è questo limite questo semplicemente ci ricorda la sintassi e come caso particolare il dizionario vuoto lo posso indicare con aperta e chiusa graffa ricordiamo ieri abbiamo detto no l'insieme vuoto non lo puoi indicare come aperta e chiusa graffa devi usare per forza la funzione set perché la sintassi aperta e chiusa graffa è riservata ai dizionari oppure ovviamente potrò usare la funzione dict anche qua che crea un dizionario vuoto così come abbiamo la funzione list così come abbiamo la funzione set per creare nuove contenitori di questo tipo abbiamo la funzione dicte che mi crea un nuovo dizionario quindi ad esempio un uso possibile di dizionario è quello di gestire una rubrica la rubrica dei contatti del vostro cellulare avete i contatti ordinati per nome e ciascun nome è associato al numero di telefono e nella rubrica noi non potete inserire due contatti con lo stesso nome è vietato ci sarebbe confusione quindi se avete due amici che si chiamano entrambi giulio richiamerete giulio 1 giulio 2 o magari in un modo un pochino meno offensivo ma dovete distinguere in qualche modo la chiave con cui cercate con cui memorizzate il contatto per poter associare numeri di telefono diversi a queste due persone che sono diverse e quindi devono avere un nome diverso quindi in tutti i casi in cui ho un elenco di persone, oggetti, informazioni che hanno un nome identificativo, univoco e dell'informazione ad esse associate quindi il nome è Fred e l'informazione che associa a Fred è il numero di telefono in questo caso è un numero intero col vincolo ovviamente che questi nomi siano univoci posso creare un dizionario per memorizzare le informazioni quindi che vedete che metto insieme questa associazione che mi dà dal nome il numero dal nome il numero e così via quindi in questo caso i nomi li usiamo come chiavi e i numeri li usiamo come valori e allora vediamo su questa struttura dati che operazioni possiamo fare quindi la solita carrellata delle operazioni che saranno molto, diciamo così, simili già alle operazioni che conosciamo sulle liste quelle che conosciamo sull'insieme la funzione dict è ovviamente la funzione di base che crea un nuovo dizionario come abbiamo visto prima crea un nuovo dizionario vuoto che si può anche, diciamo così, abbreviare semplicemente con una coppia di parentesi graffe ma la funzione dict può anche essere usata per creare delle copie di un dizionario così come list la usavamo per creare una coppia di una lista esistente se vogliamo creare una coppia di un dizionario e non semplicemente un alias un riferimento a un dizionario esistente useremo dict che crea un nuovo dizionario copiandoci dentro le stesse chiavi e gli stessi valori del dizionario precedente quindi ricordiamoci quando lavoreremo passeremo di dizionario alle funzioni se vogliamo che sia modificabile il dizionario di partenza bene se invece vogliamo modificare il dizionario senza intaccare, senza modificare il dizionario della funzione chiamante dovremo ricordarci di fare una copia sempre semplicemente col dict mentre invece se diciamo così assegnassimo semplicemente un dizionario a un altro dizionario con l'uguale creeremo solamente un alias e non una copia è la stessa cosa che già facevamo stesso l'identico ragionamento che già abbiamo fatto sulle liste quindi qua si ribalta esattamente in stesso modo vale anche sugli insiemi che non abbiamo puntualizzato la cosa ieri ma quando io creo a uguale set di b sto creando una copia di quell'insieme se faccio a uguale a b sto creando un alias allo stesso insieme la regola è esattamente la stessa che abbiamo imparato con le liste quando lavoriamo sulle liste e sulle funzioni ecco questo dizionario una volta che ci ho messo le cose dentro le informazioni da dentro come faccio a leggerlo come faccio a modificarlo allora la sintassi per poter accedere agli elementi di un dizionario è le parentesi quadre quindi la stessa parentesi quadre che usiamo per le liste e dentro quelle parentesi quadre cosa ci mettiamo? ci mettiamo la chiave quindi io posso identificare un elemento di dizionario e un elemento ricordiamoci che è un mapping chiave valore chiave valore lo identifico specificando qual è la chiave che mi interessa questa chiave può essere espressa come in questo caso come costante contact di tra l'olio vette Fred quindi voglio esattamente il contatto l'informazione associata al contatto che si chiama Fred oppure nulla mi vieta che questa chiave sia a sua volta una variabile ovviamente il dizionario andrà a vedere quanto vale quella variabile in quel momento e mi darà il valore il valore corrispondente quindi io posso accedere in modalità random a qualunque elemento del del mio dizionario se conosco la chiave dell'elemento che mi interessa e quando accedo a un accedere al dizionario l'accesso al dizionario mi restituisce il valore il valore quindi qua ho fatto accesso all'elemento di chiave Fred del dizionario contacts e il risultato è il valore sembra un po' quando accedo l'elemento di una lista quando faccio lista di tre mi dà il valore che è contenuto nella cella di indice tre quindi nella quarta cella quando faccio contacts di Fred mi dà il valore che è memorizzato associato mappato sul sulla chiave Fred ok la differenza qual è? è che una lista gli indici sono sempre numerici partono sempre a zero sono sempre consecutivi e vanno fino a lunghezza meno uno in un dizionario gli indici non si chiamano indici si chiamano chiavi possono anche non essere numerici possono anche essere delle stringhe possono non essere consecutivi sono qualsiasi sono un insieme qualsiasi di chiavi è un qualunque set e non necessariamente un range di numeri che parte da zero come sulle liste questo è il vantaggio che posso scegliermi le chiavi come mi serve in funzione della mia applicazione il mio programma ma mi perdo ovviamente la sequenzialità delle liste quindi poiché le chiavi sono un insieme sono trattate come un insieme non esiste un ordine definito degli elementi in un dizionario perché l'ordine degli elementi in un dizionario è l'ordine delle chiavi che sono essendo un insieme abbiamo visto ieri che l'ordine viene rimescolato tranquillamente nel momento in cui viene rappresentato il dato ok quindi non posso dire il primo il secondo il terzo elemento di un dizionario ma devo conoscere qual è la chiave e devo conoscere la chiave ed essere sicuro che la chiave che sto usando esista nel dizionario perché così come quando io cerco di accedere a un array di dieci elementi cercando di prendere il quindicesimo che non esiste e otterrò un errore index auto range un index error mentre invece qua se cerco di usare una chiave che non esiste nel dizionario quindi se Fred non fosse tra i miei contatti otterrei un errore di tipo key error un'eccezione è lo stesso concetto se cerco di accedere a un indice che non esiste mi dà un errore se cerco di accedere in una lista se cerco di accedere a una chiave che non esiste in un dizionario mi dà un errore per evitare o questo bisognerebbe sempre controllare se una determinata chiave è presente o no in un dizionario prima di accedere ok e come facciamo controllare se una chiave è presente o no in un dizionario e girando il nostro caro amico in oppure not in ovviamente così come facciamo sui set quindi la sintassi è questa if John in contacts la contacts è un dizionario l'operatore in non va a vedere in tutto il dizionario ma va a vedere solamente tra le chiavi del dizionario non dico il tutto il dizionario perché il dizionario è composto da chiavi e valori possiamo immaginarci l'abbiamo visto qua ci sono le chiavi mappate sui valori l'operatore in va a cercare solamente tra le chiavi in cerca solamente tra le chiavi non va minimamente a vedere cosa c'è nei valori ok giustamente è quello che ci serve nel senso che poi stiamo verificando se questo può essere usato come chiave per accedere a una determinata locazione a un determinato elemento presente nel dizionario altrimenti dirò che non lo è se mi dimentico di fare questi controlli avrò un key error poi questo key error o mi fermo il programma oppure lo potrò gestire con un trial except se mi interessa invece gestirlo in questo modo ok quindi il nome di un dizionario è un po' multiforme cioè in alcuni casi rappresenta l'intero dizionario chiavi valori in altri contesti invece rappresenta solamente le chiavi come ad esempio nel caso del link e come vedremo tra un attimo nell'iterazione c'è una scorciatoia che mi permette di poter accedere a un elemento di un dizionario se non sono sicuro che la chiave esiste se non sono sicuro che la chiave esiste ho un metodo get che si sostituisce all'accesso con le parentesi quadre quindi anziché fare se devo leggere toni e non sono sicuro che toni sia nel dizionario dovrei fare normalmente contacts di toni cioè leggimi l'elemento del dizionario la cui chiave è toni ma non sono sicuro che ci sia allora dovrei fare come abbiamo fatto prima ma controllare prima se c'è ecco questa diciamo così sintassi si può semplificare usando il metodo get il metodo get riceve come parametro la chiave a cui vogliamo accedere con la quale vogliamo accedere al dizionario e quindi ottenere il valore corrispondente ma anche un valore di default questo valore di default viene restituito se la chiave non c'è se la chiave è assente è mancante quindi in questo caso cosa succede che se nel dizionario c'è toni avrò il numero di toni se nel dizionario toni non ci fosse verrà restituito al metodo get restituisce il secondo parametro della funzione quindi lo chiamiamo valore di default perché è il valore che mi viene restituito se il valore vero non c'è se non esiste l'effettivo dato all'interno del dizionario non è assolutamente assolutamente equivalente queste due forme sono equivalenti quella con il guess forse è un pochino più esplicita un pochino più rapida se ce la ricordiamo altrimenti dobbiamo semplicemente ricordare di controllare prima di leggere oppure magari siamo sicuri al mille per mille che la chiave c'è perché l'abbiamo appena messa allora non serve controllare ogni volta ma quando abbiamo il dubbio se il valore che stiamo ricercando esiste o no o controlliamo prima o gestiamo il value error come eccezione oppure usiamo il get che ci permette di impostare un valore di default Marco mi chiede se è equivalente a fare trial except ovviamente possiamo usare trial except che è la situazione più generale nel senso che con il trial except se ho un'eccezione poi la posso gestire come voglio ad esempio diciamo così ritornando un valore di default oppure no vediamo magari qualche prima di andare avanti un esempio o due direttamente sul codice così ci familiarizziamo con questo quindi prendiamo la nostra python console e creiamoci un dizionario molto semplice ok chiamiamolo così un dizionario che si chiama voti le cui chiavi siano magari gli esami quindi di analisi voti uguale di analisi prendiamo prendiamo di 30 no di chimica prendiamo 29 e di informatica prendiamo prendiamo tutti 30 ma scrivo 28 voto per avere dei voti diversi dai ok quindi questo è un dizionario possibile che mette in relazione dei nomi di corsi con dei dei voti che potremmo aver preso quindi se stampo il dizionario voti ottengo chiaramente la stampa nella sintassi che abbiamo visto parentesi graffe chiave due punti valore chiave due punti valore chiave due punti valore io ho usato adesso come chiave una stringa come valore un numero quando creo un dizionario posso fare ciò che voglio io potrei anche usare un dizionario misto in cui magari ho alla chiave A associo il valore 7 e poi alla chiave 18 associo il valore x y z non so cosa possa servire avere delle chiavi di tipo diverso ma è perfettamente lecito siamo noi che magari ci diamo un pochino di disciplina diciamo che in questo dizionario la chiave sono i nomi degli esami oppure i codici degli esami in quell'altro dizionario la chiave sono il numero che rappresenta il codice di un comune o il numero di matricola ovviamente per capacità di gestione il linguaggio non ci pone nessun vincolo l'unico vincolo che pone è che le chiavi possano essere memorizzate insieme quindi siano valori di fatto immutabili ah e lo stesso per i valori come dicevate il 30 load lo posso sicuramente memorizzare sotto forma di stringa non sotto forma di numero ovviamente quindi io potrò dire che magari i voti la modifichiamo se volete mettere 30 load la mettiamo in formatica però lo devo mettere come stringa non come numero intero questo ovviamente mi darà un po' di problemi quando lo puoi elaborare se mi chiedono fai la media dei voti dovrò faticare un pochino di più perché dovrò fare la somma dei voti ma dove c'è scritto 30 load non è un numero quindi se provo sommarlo mi dà errore quindi avere dei dati che sono se diciamo così solamente li voglio visualizzare non mi dà problemi se voglio elaborarli è molto più comodo se il tipo di dato è uniforme e quindi 30 load lo rappresentiamo in un modo diverso ad esempio con due campi uno è il voto e l'altro un flag booleano lode sì lode no oppure con 31 che è un valore che comunque dovremmo gestire come caso particolare però è sempre numerico ma queste sono scelte nostre ovviamente il linguaggio ci permette di fare ciò che vogliamo siamo noi che decidiamo qual è il modo più comodo di gestire i dati allora vogliamo sapere quanto abbiamo preso di chimica lo possiamo semplicemente interrogare e mi dà mi restituisce 29 se vogliamo sapere quanto abbiamo preso di analisi di analisi 1 mi dice che questo esame non l'abbiamo ancora superato anzi mi dà un key error perché abbiamo usato come chiave il nome di una stringa diciamo così che corrisponde al nome di un esame che non c'è nel dizionario perché nel dizionario l'avevo chiamata analisi e non analisi 1 perché mi ero dimenticato che c'è ancora analisi 2 e altre belle cose dopo e quindi in questo caso la chiave non esiste ho sbagliato io in certo senso ho usato una chiave che non esisteva se io volessi qui veniamo alla funzione get che dicevamo prima se io volessi interrogare un voto sapendo che quell'esame potrebbe non essere ancora passato potrei usare voti di punto get in cui gli passo la chiave che non so se è chimica me lo restituisce mi dà 29 ma se è qualche cos'altro può darsi che non ci sia quindi se abbiamo un esame che non so di fisica che avrete nel secondo semestre so che non c'è questo elemento allora passo un secondo parametro alla funzione get in cui posso dare che non so una indicazione tipo non superato non ancora superato allora in questo caso il metodo get se l'esame se la chiave non c'è come fisica mi restituisce non ancora superato cioè il secondo parametro e quindi magari stamperò questo messaggio se invece come primo parametro metto chimica mi restituirà il voto corrispondente quindi se c'è mi dà quello quello che c'era nel dizionario se non c'è mi dà il secondo parametro della funzione dalla chiave al valore Marco mi chiede se esiste un modo per ottenere la chiave conoscendo determinato valore non esiste un modo diretto bisogna iterare su tutti gli elementi e vediamo tra un secondo come si fa su tutte le chiavi e per ciascuno andare a interrogare il valore corrispondente e lo vediamo tra un attimo la sintassi con le parentesi quadre noi l'abbiamo vista adesso per interrogare il dizionario in realtà la possiamo anche usare per modificare il dizionario cioè perché noi domani andiamo a superare fisica e quindi diciamo che di fisica prendiamo 25 ho messo 26 dai mi sono regolato un punto mi è scappato un 6 quindi usando la sintassi con la parentesi quadra con una chiave nuova che non esiste sto creando un nuovo elemento nel dizionario vediamo un attimo qua noi avevamo questo dizionario che contiene analisi chimica e informatica sto scrivendo voti di fisica uguale a 26 quando batto l'invio nel dizionario compare un nuovo elemento quindi da tre elementi siamo passati a quattro con una nuova chiave e un nuovo valore associato ok questo tra l'altro se vado a rifare la get di prima che mi aveva detto che fisica non era ancora superato ovviamente mi darà il 26 non mi darà più che non ho superato perché questa chiave adesso c'è nel dizionario quindi posso creare nuovi elementi in un dizionario semplicemente aggiungendoli fornendogli la chiave qui non c'è un metodo come add o come append perché add aggiungeva un valore a un insieme append aggiungeva un valore a una lista ma qui mi serve aggiungere sempre una coppia chiave valore e quindi questa sintassi diciamo che usa normalmente le parentesi quadre mi permette di specificare sia la chiave che il valore quindi questo è modo per far crescere un dizionario aggiungere nuovi valori a chiavi che non esistono ancora e cosa capita se invece cercassi di fare questa stessa cosa su una chiave che esiste già quindi se facessi voti di informatica uguale 35 e informatica adesso conteneva la string 30 load sappiamo che 35 non è un voto valido non fa lo stesso se batto invio cosa capita che la chiave esiste già lui riconosce che la chiave esiste già e semplicemente modifica il valore corrispondente ovviamente non mi potrà creare una seconda chiave uguale a quella di prima se no mi viola il vinco di unicità delle chiavi ma modifica il valore corrispondente quindi questa sintassi in cui assegno a un a un dizionario indicizzato per chiave può essere usata la stessa sintassi sia per creare elementi nuovi sia per aggiornare il valore degli elementi esistenti ok quindi se un valore ne so parlavamo prima della rubrica telefonica se il vostro amico cambia il numero di telefono la chiave cioè il suo nome rimane lo stesso ma il chiaramente il numero può cambiare infatti mi legge la domanda di Andrea che mi chiede se come valore usiamo delle liste ce ne possiamo uscire con degli append non la capisco in italiano la domanda se riesci a riformularla ti ringrazio ok tenete presente che questa operazione qui di assegnare un valore a una chiave nuova lo possiamo fare con i dizionari ma non lo possiamo fare con le liste ok per una lista non posso aggiungere un valore nella posizione 37 se questa posizione non esisteva ancora quindi per le liste si poteva aggiornare ovviamente un valore che esisteva già ma non potevo creare dei valori nuovi l'unico modo per creare dei valori nuovi era usare append extend o concatenare ok allora c'è una lotteria di persone che stanno provando a inventare come si fa a eliminare una chiave eliminare una chiave si può fare allora andiamo direttamente alla slide corrispondente col metodo pop il pop il pop ricordiamocelo nelle liste prendeva come parametro che cosa il indice numerico qui il pop prenderà come parametro la chiave non usiamo remove perché remove ci ricordate sulle liste cancellava un elemento dato il valore di quell'elemento non dato l'indice e quindi quando i sui dizionari non ha senso perché in unica operazione le facciamo sulle chiavi che sarebbero in un certo senso degli indici quindi se vogliamo cancellare un elemento conosciamo la sua chiave e possiamo fare diciamo chiamare il metodo pop sul dizionario passandogli la chiave quindi nel nostro caso se vogliamo eliminare il voto di chimica ad esempio faremo un voto di chimica di chimica l'operazione pop mi restituisce il valore in questo momento mi restituisce il valore in questo momento che aveva chimica ma contestualmente la elimina dal dizionario e quindi a questo momento chimica non c'è più quindi in qualche modo lo posso usare anche per estrarre dei valori estrargo il valore poi userò il valore da qualche altra parte fuori dal dizionario ma in un dizionario poi non c'è più quindi non lo potrò più restare in uno stesso modo Cristo mi chiede cosa faccio se devo associare più valori ad una stessa chiave non posso a una chiave posso associare un solo valore però non mi viete che quel valore a sua volta sia un valore composto il valore può essere qualunque cosa può anche essere a sua volta un'altra lista può essere un insieme può essere un dizionario a sua volta un dizionario di dizionari e quindi in questo caso se ad una chiave devo associare più valori la chiave sarà una sola ma il valore non sarà solo un numero sarà magari una lista di numeri o un set di numeri quindi questo è il modo per lo vediamo alla fine per avere strutture dati più articolate più complicate l'operazione POP elimina così rispondo anche l'altra domanda che c'era nel chat elimina ovviamente sia la chiave che il valore la chiave il valore non può esistere senza una chiave quindi non avrebbe senso cancellare solo uno o solo l'altro quindi cancella l'intera riga chiave valore dalla struttura dati ovviamente anche con POP devo fare attenzione che la chiave che sto cancellando esista altrimenti arriva una arriva un key error viene generato un key error se cerco di eliminare un elemento che non esisteva ovviamente torniamo indietro all'esale che avevamo saltato per parlare della POP che essenzialmente ci dicevano quello che abbiamo già visto direttamente nella console che l'operatore di iniziazione lo posso usare sia per creare nuovi elementi quindi aggiungere nuovi elementi sia per modificare gli elementi esistenti quindi queste sono cose che avevamo già visto interattivamente quindi l'operazione per creare un dizionario di solito lo devo leggere da file lo leggo un elemento per volta da tastiera eccetera noi su una lista creavamo una lista vuota e poi facevamo append via via degli elementi su dizionario creiamo un dizionario vuoto e poi facciamo delle assegnazioni via via degli elementi alle varie chiavi allora prima della letterazione rispondiamo alle domandine di base allora torniamo a quella di Andrea che si mette un valore come valore una lista puoi usare append ok allora vi piace pensare a dei dati composti nel valore e quindi possiamo subito fare un esempio su questi Samuele mi dice se il valore fosse associato anche a un'altra chiave però non verrebbe eliminato con la chiave certo Samuele il pop elimina un elemento partendo dalla chiave quindi quella chiave elimino quella copia chiave valore se poi quel valore è puntato anche da un'altra chiave l'altra chiave ovviamente non viene minimamente toccata e quindi in quel caso quel valore rimane accessibile dalla seconda chiave ma non più dalla prima proviamo a vedere un esempio magari ci inventiamo un programmino in cui abbia senso fare un dizionario i cui valori siano valori strutturati che ne so immaginiamo di dover fare delle delle misure chiamiamo qui facciamo file misure .python in cui vogliamo memorizzare delle misure che facciamo in vari giorni della settimana ok quindi me lo sto inventando spero che non lo faccia così sensato quindi vogliamo memorizzare adesso siamo in covid quindi vogliamo memorizzare la temperatura presa a diverse persone è possibile che una persona misura la temperatura più di una volta e vogliamo ricordarci le misure prese ok quindi immaginiamo un programma che a un certo punto mi faccia dimmi il nome mi chiede dimmi il nome della persona dimmi il nome della temperatura e memorizzare tutto questo in una struttura dati ok quindi vediamo un main potrebbe essere una cosa che mi dì una qualcosa che grosso modo si comporti così nome uguale input nome della persona temperatura uguale flotte di input misura della temperatura e così via e rileggo questo dentro un ciclo ok dentro un ciclo fino a una certa condizione di terminazione che adesso ci possiamo inventare ok quindi diciamo fino a quando il nome della persona non è asterisco per terminale adesso non voglio fare troppo tempo nella parte di input quindi while while nome diverso da asterisco cosa farò aggiungerò nome temperatura i dati e poi rileggo chiaramente il prossimo elemento ok poi dovrò mettere la temperatura te la chiedo solamente se il nome non è un asterisco ma questi sono dettagli diciamo estetici così così e così vabbè questo legge una coppia di nomi valori ok allora supponiamo lo scrivo grosso versione 1 una una persona una sola temperatura ok lo scriviamo grosso quindi non è quello che volevamo fare all'inizio partiamo dalla versione più semplice ok quindi in questo caso ci basterà un semplice dizionario che si ricordi l'ultima temperatura letta di una determinata persona quindi creiamo un dizionario misure che inizialmente sarà vuoto e poi una volta che leggo un dato semplicemente segnerò al dizionario misure indicizzato dal nome il valore di temperatura che ho appena letto e poi posso magari scrivere facciamo una print semplice senza farla tanto ordinata in questo modo ok quindi vediamo questa prima versione 1 ok allora eseguiamo il programma magari chiamiamo anche main fa qualcosa nome della persona A misura temperatura 35 quindi mi dirà che A ha la temperatura 35 ok poi arriva la persona B la temperatura sarà 36 e l'insieme si ricorda sia A che B a questo punto se poi arriva di nuovo A in questa versione del programma e a questo punto avrà 37 come temperatura va a sostituire al valore vecchio che era 35 e il valore nuovo che appena letto 37 ok questo è il funzionamento di base del dizionario ogni volta che arriva una persona nuova aggiungerà un nuovo elemento C che ha la temperatura 34 mezzo morto e lo aggiunge ogni volta al dizionario quindi posso aggiungere o aggiornare dei dati esistenti però ogni volta che mi arriva un nuovo valore questo va a sostituire il valore precedente che era associato alla stessa chiave se io C lo mettessi a 36 avrei in questo caso sia B che C che hanno lo stesso valore ma al dizionario questo non importa perché lui comunque accede sempre per chiave cioè non va a fare un caso particolare delle condizioni dei controlli sul fatto che i valori siano uguali oppure meno a lui non importa questa è la versione 1 quindi magari lo facciamo lo rinominiamo come versione 1 e lo copiamo e ne facciamo una nuova versione adesso appunto che chiamiamo versione 2 che invece sarà quello completo quindi copia incollo il codice versione 2 una persona molte misure di temperatura allora in questo caso cosa devo devo comportarmi in modo diverso devo fare in modo che per una determinata chiave cioè il signor A non ci sia un numero flot che rappresenta il valore ma ci sia una lista una lista di di flotta loro volta che rappresentano i vari valori quindi la prima volta che una persona viene vista dovrò creare una lista che contiene un solo valore le volte successive dovrò semplicemente appendere dei valori nuovi alla lista esistente quindi sto creando un dizionario di liste o meglio un dizionario la cui chiave siano stringhe nomi i cui valori siano liste di valori numerici ok allora passo in avanti come lo facciamo beh la struttura è sempre la stessa ciò che cambia è semplicemente la riga 19 non ci basta più semplicemente far così dobbiamo innanzitutto distinguere due casi il nome c'era già o non c'era ancora se il nome è nuovo devo creare una nuova lista una nuova posizione con questo singolo valore quindi if nome not in in si chiamava misure questa è una persona nuova la prima volta allora dentro ovviamente misure di nome qui non l'ho fatto notare prima ma qui dentro le parentesi quadre non ci sto più mettendo tra virgolette un nome impreciso Giuseppe Antonio Francesco ma una variabile e quindi sto indicizzando un dizionario con una una stringa variabile no? questo non è diverso in nessun modo da quando usavamo gli indici nelle nelle matrici ok? quindi non sta la chiave non è n o m nome la chiave è il valore stringa che sta memorizzato dentro nome penso che sia chiaro spero a tutti ecco però cosa devo mettere dentro questo ehm dentro questo dizionario dentro come valore associato a questo nome non la misura temp cioè il numero reale ma una lista che contiene quel numero queste due graffe queste due parentesi quadre a sinistra mi indicizzano una determinata posizione una determinata chiave del dizionario essendo una chiave nuova verrà creata da zero queste parentesi quadre a destra mi creano una lista contenente un solo valore che è un numero reale ok? proviamo finora a vedere cosa fa questo programma se io dico che A ha 37 come misura della temperatura perché mi stampa aspetta l'ho salvato no perché scusate sto continuando ad eseguire il programma di prima misure 2 A 37 ecco vedete che l'output è cambiato e alla chiave A viene associata una lista 37 che in questo caso la lista contiene un valore solo quindi se B A 36 sarà una lista che contiene solamente 36 attenzione abbiamo fatto solamente uno dei due casi il caso in cui la persona sia nuova mentre invece il caso in cui la persona sia già esistente cosa devo fare else dovrò non sovrascrivere il valore vecchio ma aggiungere a quella lista il valore che ho appena letto e quella lista cos'è? misura di nome se lo scriverò giusto prima o poi punto questa che cos'è? è il valore nome è la chiave misura di nome è il valore questo valore che cos'è? una lista allora essendo questa una lista posso benissimo farci un append di che cosa? della temperatura che ho appena letto ok? quando uso l'operatore di indicizzazione sul dizionario ciò che ottengo è il valore e a seconda di che cos'è questo valore ci posso fare cose diverse in questo caso io so che il valore è una lista perché l'ho creato così e quindi quella lista è mutabile come tutte le liste con gli operatori delle liste posso indicizzarla posso ordinarla posso fare un sort posso fare un append posso estrarre una slice è una lista come tutte le altre semplicemente non è una lista che si chiama A è una lista che si chiama misura di nome cioè il cui nome cioè il cui riferimento arriva da da un'altra struttura dati che la contiene quando noi facciamo le liste di liste non era diverso la quarta riga di un array di una matrice di una tabella era una lista che era contenuta all'interno di una lista più grande e qui sarà una lista che è contenuta all'interno di un dizionario più grande quindi se eseguo questo dico che se A a 36 B a 37 poi arriva di nuovo A che avrà invece 36,5 e in questo caso nome not in misure sarà falso perché il nome A è già nelle misure è già presente nel dizionario quindi dovrebbe aggiungermi il 36,5 in aggiunta al 36 sai che già c'era e infatti è così quindi abbiamo fatto un giro lungo ma abbiamo fatto un esercizietto quando ho più valori che devono essere associati a un determinata chiave il valore di fatto il trucco che uso è il valore è uno solo che però a sua volta è una lista e quindi può contenere tanti sottovalori ok quindi capiamo che diciamo così dobbiamo innanzitutto farci una buona diciamo mappa mentale di come organizziamo i dati di come organizziamo la struttura dati quindi magari tante volte uno schemino aiuta a visualizzare cosa stiamo facendo cioè ad esempio in questo caso io avrei detto beh allora cerchiamo di capire come organizziamo i dati allora misure è un dizionario che ha delle chiavi scusate se è storto sempre farlo più dritto le chiavi che sono il signor A il signor B eccetera al signor A corrisponde una lista che contiene i valori 36 37 32 punto 3 e il signor B corrisponderà a un'altra lista che contiene gli altri valori 41 42 o quello che volete Giuseppe mi dice se al posto di una lista potrei usare un insieme tecnicamente sì in questo caso specifico mi sembrerebbe sbagliato perché se io voglio sapere ogni volta che prendo una misura lui magari il signor A ha di nuovo 36 allora io voglio vedere che 36 compare una seconda volta se invece avessi usato un insieme la seconda volta che compare 36 non verrebbe più memorizzato allora tecnicamente posso fare quello che voglio posso usare una lista posso usare una tupla posso usare un insieme in questo caso specifico dove voglio avere l'elenco di tutte le misure fatte e beh e mi conviene usare una lista però posso usare qualunque struttura dati come valore un valore singolo una lista un insieme un dizionario a sua volta se voglio complicarmi la vita una tabella c'è una lista di liste non c'è nessuna limitazione ok ok fin qua abbiamo visto delle operazioni singole sul singolo elemento per stampare abbiamo fatto una print sapendo che python è capace di stampare il dizionario da solo però se volessi stampare un elemento per volta oppure fare delle elaborazioni su un elemento per volta come faccio a iterare su un dizionario allora anche qua esiste la possibilità di farlo col ciclo for for in in modo molto simile a come abbiamo iterato su un insieme quindi chiave in dizionario in questo caso il corpo dell'iterazione il corpo del ciclo for viene eseguito una volta per ogni valore di chiave ok per ogni chiave quindi in questa iterazione qui il dizionario o meglio il ciclo viene ripetuto prendendo una chiave per volta ovviamente se poi mi serve anche il valore dovrò andare a leggere la dizionario facciamolo sul nostro esempio noi qua volevamo stampare misure beh anziché fare una print brutale facciamo un ciclo in cui le stampiamo in modo ordinato ok allora se noi facessimo un ciclo for n in misure vediamo cosa capita se stampo n mi stamperà le chiavi nel mio caso i nomi quindi io provo a rieseguire questo programma se dico che a vale 36 stampa a se dico che a a questo punto a 37 continuo a stamparmi a perché è l'unica chiave che c'è nel dizionario anche se questa chiave ha un valore che adesso noi sappiamo è una lista di due elementi nel mio programma ho stampato solamente la variabile di controllo di questo for che è rappresentare solo la chiave quindi a questo punto se io ho b guarda no b devo fare è sbagliato a 37 a 36 b 35 in questo caso stamperà a b poi arriva c a 34 stampa a b c attenzione che noi stiamo stampando dei valori tirando su un dizionario in questo caso mi saltano fuori in ordine ma non è detto che saltino fuori nello stesso ordine in cui l'ho aggiunte perché alla fine stiamo sempre parlando di un set di chiavi quindi l'ordine può essere diverso non mi devo non ci devo fare affidamento questo mi dà le chiavi ma magari voglio anche le temperature allora per vedere anche le temperature dovrò accedere al dizionario con questa chiave n quindi la prima volta n è il signor a e quindi leggerò le misure del signor a la seconda volta n è il signor b e leggerò le misure del signor b e così via quindi itero sulle chiavi dentro il ciclo quasi sicuro avrò bisogno anche dei valori e quindi per ogni chiave dovrò fare accesso al dizionario per pescare quel valore corrispondente quindi in questo caso a36 mi stampa che a vale 36 se a questo punto ad a metto 37 mi stamperà il valore corrispondente che è stato modificato se aggiungo anche b 35 mi stamperà sia a che via ovviamente con i valori corrispondenti a fianco di ciascuno a questo punto questa è la chiave in questo caso vogliamo solamente stampare ma possiamo fare qualunque tipo di operazione uno può dire va bene allora per ogni elemento aggiungi una misura oppure cancella l'ultima misura che hai trovato a questo punto siete liberi di fare ciò che volete l'unica attenzione è che poiché stiamo iterando su un insieme di chiavi dentro a questo ciclo sarebbe bene non aggiungere e non rimuovere chiavi quindi non creare nuovi elementi e non fare dei pop perché altrimenti non sai più se stai iterando sulle chiavi vecchie o sulle chiavi nuove quindi in questo caso non è vietato ma diciamo sconsiglio di confonderci di modificare una struttura dati mentre stai iterando sulla struttura dati stessa questo già abbiamo visto sulle liste che creava dei problemi a noi ovviamente non al linguaggio ok quindi potete l'importante è che vi ricordiate che state iterando su un dizionario ma l'iterazione avviene sulla chiave cioè il foring vi dà le chiavi in un certo ordine il valore ve lo dovete andare a pescare voi oppure oppure c'è una scorciatoia che è un metodo che si chiama items che hanno i dizionari un metodo presente nei dizionari che restituisce una lista di tuple una lista di tuple che contengono nel primo elemento la chiave nel secondo elemento il valore ve lo faccio vedere qua se contacts è questo e poi torniamo indietro per vedere a cosa ci serve se contacts è un dizionario questo dizionario qui ad esempio se io estraggo contacts.items qui ho creato una lista che fa una coppia di contacts.items è una lista che avrà tanti una lista normale ok che ha tanti elementi quanti erano gli elementi del dizionario questi elementi di questa lista a loro volta sono tuple sono tuple di due elementi sempre il primo è la chiave il secondo è il valore il primo è la chiave il secondo è il valore il primo è la chiave il secondo è il valore e così via chiave valore quindi mi trasforma il dizionario in una lista di coppie tuple è il nome generale ma poiché sono due possiamo anche usare la parola italiana che esiste che si chiama coppia una lista di coppie coppie chiave valore chiave valore chiave valore a questo punto è una lista quindi non è più indicizzabile per chiave ma è attraversabile per per ordine dal primo secondo terzo elemento e così via e quindi questo ci dà un modo di poter attraversare un dizionario avendo come variabile di controllo non solo la chiave in un foring noi vedremo solamente questa chiave qua e mi restituisce ad ogni interazione fred poi mary poi bob e se voglio il numero devo andare a leggerlo contacts di fred contacts di eccetera invece usando items posso attraversare questa lista il dizionario in realtà attraversando questa lista associata che mi sono fatto costruire della funzione items che mi dà ad ogni interazione direttamente la coppia a livello di codice potrei iterare in questo modo prendo un dizionario contacts estraggo la lista delle coppie di elementi coppie chiave valore e itero su una variabile di controllo che mi rappresenta questa coppia quindi alla prima interazione questo item rappresenta questa tupla questa tupla avrà un elemento 0 che è la chiave e l'elemento 1 che è il valore e quindi io potrò stampare la chiave e il valore poi all'interazione successiva passo all'elemento successivo della lista quindi item mi dà questa seconda tupla con la sua chiave e col suo valore quindi la chiave ce l'avrò nell'elemento 0 della tupla il valore ce l'avrò nell'elemento 1 della tupla e così via questo stesso codice lo posso scrivere in un modo un pochino più leggibile disaggregando l'item nelle sue componenti chiave valore quindi anziché creare un'unica variabile questo item è una variabile di tipo tupla scrivendolo così con la sintassia tupla io sto spezzando questa tupla e memorizzando il primo elemento dentro la variabile chiave il secondo elemento dentro la variabile valore l'abbiamo già visto quando si assegnano quando ritornavamo più valore della funzione creavamo una tupla e poi assegnavamo i vari pezzi a vari variabili qui non è diverso è esattamente la stessa sintassi e quindi facciamo la stessa cosa dizionario crea la lista di item prendi uno per uno della lista di item ma ogni item ogni tupla anziché essere memorizzata in una variabile unica che qui ho chiamato item la memorizzo i due pezzi li memorizzo in due variabili separate chiave e valore e quindi qui ci sono queste due forme questi due codici che si erano sull'esale precedente li ho diciamo così ricopiati anche su questa questa è la forma forse più utile se io posso iterare su un dizionario per chiave oppure posso iterare sugli item di un dizionario per coppie chiave valore allora questo tutto questo giro perché perché così a questo punto il valore ce l'ho già e non devo fare accesso al dizionario un'altra volta in più sarà pigrizia chiamatela come volete e quindi questo codice qua dove stiamo iterando sulle chiavi si può anche scrivere come for nome temperatura scritto come tupla in misure punto items a questo punto stamperò ad esempio print n virgola t la chiave è il nome n il valore t sono temperature queste due sono sono equivalenti ok n t è una tupla fatta di due variabili perché perché items restituisce una lista di tuple e quindi sto iterando su una lista di tuple e ciascuna interazione avrò una tupla che estraggo disaggrego nelle due componenti quindi per rispondere ad Andrea nt sono nt non sono nt è una tupla fatta di due numeri o di due parti perché è una tupla perché items restituisce una tupla restituisce una lista di tuple e quindi ad ogni interazione la parola di controllo è una tupla che posso disaggregare quindi proviamo a rivederlo nome della persona a temperatura 37 qui stampiamo due volte perché abbiamo fatto prima il for iterando sulle chiavi e poi iterando sulle coppie ovviamente il risultato sarà sempre identico P 35 esattamente la stessa cosa succede qui sono due sintassi diverse iter sulla chiave iter sulla coppia iterare sulla chiave è il caso più generale perché poi posso voler accedere all'elemento posso non volervi accedere posso voler modificare eventualmente mentre invece qui lo estraggo posso semplicemente utilizzare visualizzare ma non modificare tutto qua tutto questo finora abbiamo lavorato partendo dai dai nomi partendo dalle chiavi che è la legge quando si lavora con i dizionari sabrina si sta agitando perché mi dice no ma io però voglio cercare le cose a partire dai valori persone con le stesse temperature in questo momento e non posso nel senso che non c'è nessun modo diretto di farlo con un dizionario poi certo che posso farò un ciclo sui vari elementi e poi per ciascun paziente diciamo così vado a prendere la sua temperatura per la ciascuna temperatura vado a vedere nel dizionario se tutti i valori degli altri se in tutte le liste associate agli altri valori esiste un duplicato di quel valore di quel numero lo faccio con un po' di cicli annidati sicuramente tutto si può fare per quell'operazione probabilmente un dizionario non è la struttura dati più comoda perché i dati sono nascosti dentro di una lista dentro un valore associato a una chiave e l'unico modo per arrivare alla lista è conoscere la chiave quindi posso iterare sulle chiavi però se io devo fare nel mio programma delle ricerche che partono dal valore quindi trovare i valori unici trovare i valori duplicati mettere in ordine i valori allora non è furbo nascondere i valori nel campo valore di un dizionario sceglierò una struttura dati diversa ok magari una tabella bidimensionale con la temperatura poi cerco di ricordarmi questo esempio magari quando facciamo qualche esercizio un pochino più complicato andiamo a riprendere una caristica in cui questo debba essere fatto ok quindi di base cominciamo i dizionari hanno una sintassi e delle primitive abbastanza semplici tutto sommato però sono una struttura un po' più complicata un po' più versatile proprio perché sono fatte le due metà chiavi e valori e si possono plasmare in molti modi diversi allora come sintassi ricordiamoci costruire un insieme un dizionario vuoto oppure un dizionario contenente già una serie di coppie chiave valore non c'è nessuna regola ma noi per comodità ci diamo la regola che le chiavi sono tutte dello stesso tipo quindi ho tutti interi ho tutte stringhe ho tutti float e i valori probabilmente anche essi saranno tutti dello stesso tipo perché ci è più facile elaborarli quando io ho scritto questa istruzione qua la riga 21 qualcuno avrebbe potuto dirmi ma sì ma perché stai creando una lista che contiene un elemento solo fai un elemento solo però ne hai uno quindi mettici dentro semplicemente il numero poi quando avrai il secondo ci ripensi togli il numero e metti al suo posto una lista che contiene a quel punto già due elementi certo che si può fare però poi avrai un dizionario in cui i valori alcuni sono numeri altri sono liste di numeri e quindi tutte le volte che devo farci qualche cosa e dovrò fare dei casi particolari allora per comodità mia non per non è un obbligo del linguaggio ma per comodità mia ho deciso che comunque nei valori ci sono delle liste se ho un solo valore lo creo comunque una lista di un elemento però questa è una scelta mia non è una regola ma quando noi appunto pensiamo progettiamo la struttura dati progettiamo come memorizzare i dati facciamo queste scelte più sono semplici più sono lineari più sarà facile diciamo così andare avanti a gestirle l'in l'operatore in l'abbiamo visto sia per cercare se una chiave esiste sia per iterare sulle chiavi posso assegnare un valore a un dizionario e questo abbiamo visto che serve sia per modificare che per creare nuovi elementi posso estrarre un certo valore con il rischio che genere un'eccezione se non voglio rischiare che genere un'eccezione uso il metodo get che nel caso in cui il valore non ci sia mi restituisce un valore predefinito di default pop invece per eliminare una chiave e il suo valore associato non l'avevamo visto in realtà esiste anche un metodo che si chiama values che mi restituisce tutti i valori del dizionario sotto forma di lista non più associati alle chiavi corrispondenti vediamolo interattivamente cosa fa noi avevamo ancora una console aperta in cui c'era il nostro dizionario dei voti ok chiave 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 valore 30 valore 35 valore 26 se io facessi chiamassi il metodo values del dizionario mi darebbe scusate devo trasformare in una lista se non me lo espande mi dà una lista che contiene solamente i voti se non sbaglio però qua sto andando a memoria quindi non sono sicurissimo esatto e funziona il metodo keys non c'era nella slide e fa il contrario mi dà una lista che contiene solo le chiavi quindi questo è un nostro dizionario che io me lo immagino un po' come una struttura due colonne chiavi a sinistra e valore a destra se voglio solo i valori values se voglio solo le chiavi keys me li estrae abbiamo visto se voglio entrambi chiavi e valori posso chiamare items e mi dà effettivamente una lista di tuple e ciascuna tupla ha nel primo elemento la chiave il secondo elemento il valore e così via quindi il dizionario in sé è una struttura dati che è ottimizzata per fare accessi via chiave quindi queste sono le operazioni di base le operazioni di base col dizionario le operazioni di base col dizionario sono queste leggo il valore dato a una chiave aggiungo un valore dato a una chiave modifico un valore dato a una chiave eventualmente cancello queste sono le operazioni di base che sfruttano il fatto che il dizionario è organizzato dalla chiave al valore conoscendo la chiave faccio ciò che voglio sui valori se non conosco la chiave non riesco praticamente a far nulla poi ho quei tre metodi che sono keys values e items che mi permettono di convertire e stare le informazioni dal dizionario sotto forma di liste ma da quel momento in avanti lavoriamo poi con le liste quindi lavoriamo in ordine lavoriamo ricercando gli elementi dentro la lista e così via anche qua ci sono sto guardando ho preso un altro sito le stelle le vabbè i metodi che non abbiamo visto c'è ad esempio clear che è lo stesso che abbiamo sulle liste su insieme cioè svuota il dizionario values abbiamo appena visto uno che può essere comodo e se vogliamo leggere un dizionario è questo che si chiama pop item che fa il pop di un elemento che decide lui a caso e quindi se vogliamo cosa vuol dire vuol dire che mi restituisce l'elemento chiave valore sotto forma di tupla e contestualmente lo cancella dal dizionario quindi se noi vogliamo prendere un dizionario e elaborare gli elementi uno per volta svuotandoli man mano che sono elaborati possiamo usare questo perché la pop purtroppo è un pochino più scomoda perché richiede che io conosca la chiave e non c'è nessun modo per dire dammi una chiave qualunque dammi la prima chiave non esiste la prima chiave in un dizionario perché gli elementi di un dizionario essendo un insieme non hanno un primo un secondo un terzo non sono ordinati dovrei prendere i keys prendere il primo elemento delle keys e si complicano un pochino e comunque sarebbe sempre primo tra virgolette come un insieme cioè nell'ordine che vuole lui nell'ordine arbitrario e quindi in questo caso potrebbe essere diciamo utile questo questo metodo qua che quando vogliamo togliere elementi uno per volta e non ci ovviamente non ci importa l'ordine con cui l'abbiamo 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 estratti non abbiamo citato la funzione sorted ma nel campo nel caso delle iterazioni nel slide era menzionata ma l'abbiamo saltata quando io voglio iterare sul dizionario abbiamo visto che posso iterare per chiave poi abbiamo visto che posso iterare anche per items ma se itero per chiave l'ordine degli elementi sarà l'ordine arbitrario che salta fuori dall'insieme se invece vuoi essere i miei elementi in un ordine ad esempio crescente alfabetico beh questo lo so già fare uso sorted sul dizionario ok quindi sorted mi restituisce una lista con le chiavi in ordine non sta ordinando il dizionario non ha senso parlare di ordinare un dizionario non ha senso parlare di ordinare un insieme quando chiamo sorted il risultato è sempre una lista la lista che contiene che cosa le chiavi del dizionario messe in ordine poi l'effetto è quello di iterare sul dizionario chiaramente in ordine alfabetico in questo caso perché le chiavi sono delle stringhe ok questo se vogliamo è la la base diciamo così dei meccanismi di funzionamento del dizionario e noi abbiamo visto questo esempio molto semplice dei voti e questo esempio molto semplice delle misure dove abbiamo usato la chiave come un dato identificativo un po' come la rubrica telefonica che c'è sulle slide la chiave è un dato e ogni volta può essere diverso ok è un modo usare un dizionario in cui le chiavi sono identificativi di insieme di valori che poi memorizziamo abbiamo visto come numeri come stringhe come liste e questo è il modo principale modo di base in cui si possono strutturare i dizionari dopo l'intervallo vedremo un caso particolare in cui le chiavi non saranno dei valori arbitrali cioè nomi di persone nomi di città eccetera ma saranno valori predefiniti che ci serviranno per costruire dei record dei blocchi di dati che hanno tutti la stessa struttura però diciamo così in questa prima ora di concetti nuovi ne abbiamo visti parecchi quindi dobbiamo un attimo sgombrare la mente per i prossimi 15 minuti e ci rivediamo alle 11.45 riprendendo questo nuovo modo di usare dizionari su cui poi ovviamente saranno esercizi in cui i dizionari si usano in un modo e casi invece in cui i dizionari si usano nell'altro modo come avevo c'è dato all'inizio sono proprio la stessa struttura dati può essere usata in due modi duali adesso vi lascio un attimo respirare e quindi ci rivediamo alle 11.45 con la seconda parte della lezione grazie a tutti grazie a tutti